Ho perso 70 euro, cazzo, oddio che culo Buongiorno Ali Ali Siamo tutti bellissimi Tutti bellissimi di prima mattina, buongiorno Dio, sti capelli Fratello, dove sta? Andrea? Dove sta mio fratello? Andiamo a vedere dove va mio fratello Dove è quello Gerry? Ecco mio fratello Ecco Gerry Mamma mia, oggi non si vogliono far vedere Perché siamo tutti brutti Quindi io vi saluto per dopo la colazione Ciao Ma che bella tavola Ma che bella tavola Queste sono tutte cose dietetiche Senza carboidrati Senza zuccheri Questi ho fatti mia madre Sempre Questi uguali Sempre senza zucchero e senza carboidrati E buon appetito Madonna ha buttato tutto il latte Davvero Non c'è niente Vedete qualcosa? Sono là Oh non c'è niente Comunque questa colazione è terminata Madonna si vede niente Poi dopo vi dico i programmi Allora con l'occhio cristallino Dopo vi dico i programmi Cioè Madonna io non riesco a parlare oggi Taglia Oggi vi dico cosa faremo Cioè ve lo dico dopo Capito? Ma la bruttezza proprio Mia mia Fammi vedere Guardami Tieni Perché è piccolo Il piccolo chimico Tanto qua ci sono soli cose Era il mio fratello il piccolo chimico Ma non c'è più niente Sono rimasti gli occhiali e le profette Scoppiò tutto Oddio La schiuma Ah ha fatto il cappuccino E coca Poi si beve no? Si si Che sarebbe? No No Praticamente la reazione chimica tra aceto e bicarbonato di sodio E fa la schiuma Comunque c'è una luce pessima per fare i video qua dentro Questi occhiali mi sono veramente bene Scoppieremo Creerò una bomba La bomba dell'amore Ti piace Ali? So bene? Sono una chimica Che c'ha in mano? Le pinze? Toglimi le caccole vai Toglimi le caccole del naso vai Con le pinze vai Anzi toglimi le sopracciglia lì Aspetta Toglimi le sopracciglia mamma E che ci ti fa con quelle pinze? Oh Ora c'è Ora non c'è Ora c'è Da vede Drossido di calcio Drossido di calcio Drossido di calcio È calcio? Sì No C'ha pure sue cose del calcio no Dai suona Dai suona Fammi vedere Suona insieme a te dai Facciamo campanare? Sì Aspetta Qua Pronto? Brava Quella Do Fra Do Re Mi Vai Suona 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 Mi sono picciata Buongiorno Buongiorno è bello solo che fa freddo sta bene cucina no la pasta no no possiamo mangiare abbiamo le verdure questa è la mia ombra no mia ombra il mio riflesso sul forno molto bella questa maglietta dice mia madre che sembra un pigiama ma a me piace ho preso al mercato 5 euro e quindi quindi un giro in canotta io sto col maglione l'altro maglione è una canottiera e lui in canotta allora mi devo scegliere le scarpe per capodanno natale ora queste che belle però dove me le metto voi lo sapete che mia madre ha una collezione di scarpe non indifferenti ha tre armadi uno due e basta no due armadi però negli anni capito queste sono solo queste invernali allora a me piacciono belli questi questi ti sei comprata vero nuovi? quali? questi? no questi erano dei ma questi sono bellissimi e poi questi qua sono deliziosi più indossi ah quelli sono carini 15 euro 15 euro anche questi come piace il beige? beige? questo no? no il beige no beh ci sono ti dimenti no a me piace no a me piace piaccia no una così no questo mi piace veramente tantissimo se mi faccio se mi faccio uno pinaccia ma questo è bello bene questo sarà mio metterò questo e non glielo riderò mai più e poi ah queste pure così queste qua semplicissime con la città davanti mi piacciono vabbè ok comunque la trovate le scarte per capodanno molto bello ma io non lo so veramente la banda a bassotti la banda a bassotti allora questo è il mio pranzo questo è il pranzo del Geri oddio buono Alice a tavola a tavola Alice si mangia questo ma come me l'ha lasciata io la bistecca e se vuole un po' e la bistecca dividete per la tua e Andrea la bristola no Giulietta non ti ha avuto non è tanta buon appetito la carne è squisita no carne no ci hai messo sopra le cose strane ma cose strane cose ma sì l'origano ma non ci si mette quella roba sega io mangio questa che è buona toglia un po' di Andrea no Andrea a te ti piace? sì esatto stiamo truccando Alice piano lì piano 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 che te ne voglio mettere pochissimo perché oggi andiamo al negozio di giocattoli al negozio di giocattoli che ci sta al negozio di giocattoli? che ci aspetta? Frozen e Anna Frozen e Anna amore si chiama Elsa e Anna non fa bene troppa lì aspetta perché sta cosa è strana ah si ha sbavato qua eh ha sbavato ok mettiamo questo ombretto va bene? sì? col dito? sì eh ma se non me guardi eh sì certo giro a di te chiudi alza stai rilassata relax teni che rilassi na 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 na.. fai mi vedi? un occhio più si e l'occhio più no vai mettiamo qui l'occhio più si è bellissimo sono movimenti molto fluidi Alice aspetta ti muovi a scatti come i matti certo poi senza pennello mamma mia fammi vedere guardami guardati guarda lui bellissimo buongiorno dopo 15 minuti di video finalmente si vede la mia faccia ah no no non è vero ho fatto vedere stamattina la mia faccia appena sveglia allora ci stiamo preparando Alice è andata al parco con mia mamma io intanto ho lavato i piatti per il pranzo che abbiamo consumato e niente quindi mi sono data una sistemata e ora andiamo ah no ecco questo volevo dire che oggi è intanto l'otto quindi faccio gli auguri a tutte le imme le immacolate eccetera eccetera visto che noi l'albero e le decorazioni già le abbiamo fatte oggi andiamo da Rocco Giocattoli ho visto la locandina su facebook e quindi ho detto ma perché no e oggi fan però è Rocco non Rocco Giocattoli Toys Rocco Toys Toys mi sembra sull'Ardiatina io non ci siamo mai andati e ci sono tutti i personaggi Frozen Spider-Man ci sarà la bambaggia sicuramente ma vabbè e per questo appunto ho truccato Alice da Frozen e gli ho portato il scusate ma tremo e gli ho portato il vestito di Frozen lui che spunta io mi sto preparando e ora mi metto un profumo sono dentro la cabina armadio di mia madre anche io voglio una cabina armadio e mi piacciono un sacco i profumi che usa mia madre ha dei profumi buoni voglio anche fregare i profumi a vostra madre io veramente gli frego un po' di tutto Absolute Diamond però insomma che odore ha praticamente buono oh vedi ma lei dove le trova queste fragranze acqua di mare acqua di mare vabbè questo ma sicuramente mi metterò il primo perché mi piace Africa vabbè c'è scritto Africa molto carino oppure abbiamo questo qui no li beve mia madre incanto buono pure questo incanto molto buono io mi devo comprare un profumo buono non so che cos'è questa cosa strana questo si chiama la Martina però non lo posso stappare perché ho una mano sola no ma io sto cercando quello che mi piace bianco quello che mi piace tanto e non trovo questo è un muschio bianco mi pare che sto finito beh mi metto Diamond è molto buono molto buono è proprio buono negli occhi il profumo si deve da sentire mi piacciono i profumi le persone profumate va bene quindi andiamo prendiamo qui chiudo la valigia perché praticamente ieri abbiamo dormito qua certo voi non lo sapete ieri abbiamo dormito qui perché ieri che abbiamo fatto ah no niente ah sì perché dovevo vedere cose per Natale ti prepara già sì ho veramente paura di cosa ci aspetterà oggi lì da Toys la principessa che piange perché fa caprizi una cosa così bella che piange vieni qua desistiamo io vieni il preso figlio in casa vieni amore mio vieni qui un amore così bello Rosa ti sei ripresa? eccoci stiamo andando qui già c'è la sirenetta sotto benissimo Elsa tutto bene? Elsa ti metti bene la cintura sopra per favore? ah fammi vedere ah ok va bene quindi allora è Rocco Toys giusto? beh c'è pure lo spettacolo dal vivo me l'ho scordata mamma speriamo che non ci ha pensato nessuno ci sarà no ci sarà tutta Roma sicuramente aiuto questo sole mi uccide Eric ragazzi c'è questo sole che è cieca non si vede niente che gira qua girato 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 la macchina no no non lo so sbagliato non te sei sbagliato è qua eccolo ah ho tutto madonna i palloncini su nel cielo dicono che è il negozio più grande di giocattoli lo sai stai andando per lì sì è la caccia della sua sede è la più forte il signore ha previsto tutto oh ma dopo che è c'è tanta gente sì ah no aspetta ma la posso mettere qua bellezza ma la bellezza bello sicura questa qua wow vedi il bambinello c'è certo il bambinello deve nasce Ali ti piace lo prende la rinna che si muove dai entriamo oh è grande mamma quando facciamo col pisolone calice vuole mi costa troppo eh mamma questo questo è certamente il zecchio dei cenerenti giusto io questo io volevo fare un nuovo cosa una nuova ah non costa tanto guarda guarda l'inglesina non costa tanto pure questo di frozen è 40 questo sarà Alice guarda un po' le wings pure ci stanno le wings wow ma hai visto lassù che c'è Ali guarda un po' lassù hai visto? ti piace? scusate ma so io questa cosa è brutta cioè sono un po' di formace pure questa strana che toccata lì poi si sono più carine guardate che carino fa tutti i ricordi con le palline questo va bene che ci compriamo per Natale questa è la manicure come sta toccando 44 euro come ha compro per me? queste sono spettacoli ma questi costano più di una macchina vera praticamente quale vuoi? perché c'ha oh mio dio non sono uguali le spazzole ma non mi dì a me piaceva quello rosa scusami ma io vedi quello rosa non mi dì sono spazzole diverse vabbè senti ora inizia il spettacolo dobbiamo andare il limone che si è preso lì bambolina gialla vediamo un fa dammi la spazio profuma profuma aprila sei di vicinetto no 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 non va tirata questa va a capocontra no eccola e allora fategli un applauso per Enelza e Anna che sono arrivate qui per voi nelle città chi di voi è mai stato a New York hai visto? allora vabbè 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 facciamo un po' di spazio vabbè pure qua davanti eccole eccole oddio e allora fategli un applauso alle Wix stella, bromba e clora sono qui per voi ma sono contenta mi ha morto che belle queste Wix è questo beh Alice Alice ha fatto una faccia triste con le Wix perché? non la volevi fare? facciamo così così? eh dovevi essere carina vabbè vai a giocare che bello che bello che c'è Alice alla moto vuoi? sì con la Alice dei principessi dei principessi Emilio non lo ricordate? oddio che bello solo 124 euro ho detto ieri che bello oddio ciao ciao ecco i coporitos ecco i coporitos i coporitos i coporitos i coporitos e i topolitos e i tartarugos i tartarugitos i mariposa i tortugas i mariposa i tortugasi e i tortugasi non puoi lasciarmi la sola la sera sta finendo malissimo Gerardo Ione mi fa ho perso 70 euro cosa? ce l'avevo dietro la tasca ho perso 70 euro ho detto vabbè ho detto andiamo dietro la cassa e voglio capire la dinamica vediamo cosa è successo io ci sono andato però non ho voluto chiedere che chiedo? io gli ho detto magari avete trovato 70 euro io gli ho detto questa se gira mi fa 70 euro e che pezzi erano? io gli ho detto uno da 50 uno da 70 uno da 20 uno da 20 mi fa vabbè mi fa 70 e ce l'aveva lei sotto ho detto addio che culo cioè proprio un culo quindi abbiamo ritornato 70 euro che sta fu? è amo ma che è magica? è la palla magica? eh abbiamo le win è perché è venuta male quella di prima non è venuta capito? allora rifacciamo ragazze riconoscete questa casa? sono seduta sono stanca e abbiamo sistemato le cosine per ogni volta che vado da mia madre a un trasloco e stasera c'è la live ragazze non ve l'ho detto cioè non ve l'ho detto voi in teoria già lo dovreste sapere perché sta cosa che io sto a fare 2000 video e nessuno li guarda cioè no nessuno però diciamo che non è che siete proprio brave eh e no vabbè sto a fare un sacco di video per voi ora abbandono youtube perché voi perché voi non guardate più i miei video non vi interessano più vabbè a parte scherzi quindi stasera grande live io mi ero scordata che c'era X Factor vabbè cose da niente e quindi lo commenteremo insieme magari e poi per la finale vediamo un attimo sarà un problema forse la faccio quel giovedì la faccio saltare vediamo allora Gerry sta facendo una partitina alla play Alice vi faccio vedere è crollata in macchina quindi ora sto preparando una zuppa di verdure per stasera con cavolfiore bieda e zucchina e ovviamente senza pasta e poi per il resto sono contenta perché alla fine domani che è 9 non vado al lavoro perché le scuole sono tutte chiuse quindi mi hanno fatto prendere un giorno di ferie forzato poi c'è sabato domenica quindi mi hanno fatto sti quattro giorni a casa quattro ormai tre perché oggi è finito e poi e poi lunedì si ricomincia e vabbè ora cercheremo di svegliare Alice perché è ora di cena e sennò stanotte mi fai quattro amo 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 muori dai ci dobbiamo svegliare lì mami Alice c'è sonno mami c'è sonno mami dai dai Andiamo a vedere la mia Zuppa Oddio c'è tutto il calcio Non ho da povero tutto Ecco la mia zuppetta Ali ti ho fatto le stelline Amore Che belle Sì ora ti metto L'olio e parmigiano Dai C'è pure lo strabello alto Mamma mia Non mi potete guardare sempre Sto cosa dei delitti Mi devo preoccupare Io sono sbragata Sul divano e sto aspettando Le 21 per la live Ho due rosci Perché ho acceso i termosifoni Mi stanno chiamando La mia madre Pronto Tutto a posto Ragazzi è live Terminata Guardate come sono paunazza È stata una live molto carina Molto Veramente Siete troppo carine E sono contenta Di aver preso questa decisione Di fare una live ogni giovedì Perché ci divertiremo tantissimo Ci diremo un sacco di cose E basta Ragazzi la mia casa Si è trasformata In uno studio fotografico E domani viene una signora Che è incinta Facciamo qualche scatto Aiuto E vi faccio vedere E vi faccio vedere che questa è la mia valigia magica Perché qui ho vestiti Travestimenti Alice Per i bimbi Le scarpine Di quando Alice era piccola E quindi Tante cose carine Per i bimbi Mi fai ridere Ridere Coraggio baby Forza E coraggio Vai Sai a dormire Piani Vai Tu metti Ma come Allora tu reggi Io metto Vai Ci laviamo i denti Si è sbagliato il letto Il tuo letto è quello Ma lo voglio Ma sei stata bravissima Va bene Guardiamo un po' di cartoni qua E poi qua lì Va bene Sì Strano Ma c'è orso Che bolz Quindi Quindi Come si dice Buongiorno Buongiorno si dice Ricominciamo la giornata Buona Buonanotte Buonanotte Buongiorno 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 Buongiorno